Non tutta, allora c'è Dante accompagnato da Virgilio che deve, sta barcando, questo è lo Stige, che è il fiume dei dannati, quello su cui Caronte trasporta le anime da madre, deve entrare nell'inferno attraverso questa città fortificata. Ma diavoli, ah ok, diavoli e arpie glielo impediscono e in quello attraverso tuoni e casini vari arriva l'angelo messo dal signore che praticamente fa strada e dice a loro di star zitti e praticamente introduce Dante insieme a Virgilio nella città, nell'inferno. Se volete vedere la parte finale, seguiteci.